Nuova seduta nella mattinata di oggi in collegamento dal remoto della conferenza provinciale permanente insediatasi il 19 ottobre dello scorso anno per affrontare il delicato tema dell'edilizia scolastica nel territorio provinciale. Obiettivo dell'odierna riunione è stato quello di fare il punto della situazione sugli interventi in atto sugli edifici scolastici ed iniziare a programmare in vista della chiusura dell'anno scolastico e nell'ambito di un confronto proattivo tra tutti i soggetti interessati gli interventi che si rendano necessari in considerazione delle diverse criticità segnalate dall'ufficio scolastico provinciale in diverse scuole del territorio. Alla riunione presieduta dal prefetto Chiara Armenia erano presenti oltre ai sindaci dei comuni interessati anche il direttore dell'ufficio scolastico provinciale di Caltanissetta il dottor Filippo Ciancio e il dirigente dell'ufficio tecnico del libero consorzio comunale di Caltanissetta Mario Denaro. Nella circostanza il referente del libero consorzio comunale ha illustrato gli interventi in atto e ha elencato ben nove progetti che sono stati presentati e approvati a livello regionale e che riguardano interventi di riqualificazione di alcuni istituti scolastici della provincia. Inoltre lo stesso ha riferito che sono stati altresì finanziati taluni interventi di adeguamento sismico e di riqualificazione architettonica degli spazi e di palestre di taluni istituti di istruzione superiore di Gela che saranno finanziati con i fondi del PNRR. Il prefetto ha espresso apprezzamento per l'attenzione mostrata sulla tematica nel prendere atto dei numerosi lavori già in corso e dei progetti approvati e in programmazione ha esortato i comuni a prestare maggiore attenzione all'attività rivolta a intercettare finanziamenti indispensabili per poter realizzare lavori di miglioramento degli edifici scolastici dipendenti alle amministrazioni comunali.